L'ASL 3 di Nuoro come realtà italiana di eccellenza per la telemedicina, un traguardo importante riconosciuto a livello nazionale attraverso Missione Italia, l'appuntamento annuale organizzato da Lanci per fare il punto sullo stato degli investimenti del PNRR nei comuni, rappresentare l'ASL 3, il comune di Nuoro all'evento che si è tenuto lo scorso 4 e 5 luglio, il direttore generale dell'ASL 3 di Nuoro Paolo Cannas e l'assessora comunale all'Welfare e ai servizi alla persona Fausta Moroni. Temi al centro, la medicina di prossimità e la presa in carico dei pazienti cronici sul territorio. Erano due giorni organizzati da Anci nazionale, c'era anche l'incontro con alcuni direttori generali di Federsanità che è la costola dei direttori generali dell'Anci. Sono state presentate quattro modelli in tutta Italia per tipologia di presa in carico dei pazienti cronici con un welfare anche con il supporto dei comuni. Era presente Bologna, era presente Ragusa, era presente Genova e c'eravamo anche noi col comune di Nuoro dove l'assessora Moroni è stata molto brava a presentare insomma come stiamo lavorando insieme. Un programma che si pone come obiettivo a breve termine è quello dei 400 pazienti con patologie croniche seguiti entro ottobre ma con prospettive di crescita importanti. Stiamo attivando anche un accordo con lo SNAI, quindi dalla Barbagia-Mantrolisei con la comunità montana che prevede il potenziamento di molte altre centinaia di pazienti anche andando su altre patologie, BPCO e diabete. I pazienti sul territorio dopo alcune titubanze iniziali iniziano a rispondere positivamente all'opportunità del monitoraggio attraverso la telemedicina. Piano piano si stanno aprendo quindi io sono convinto che raggiungeremo un momento in cui questa cosa diventerà esponenziale e gestiremo migliaia di pazienti anche con altre tipologie di cronicità, penso all'oncologia e penso altre patologie. Cioè noi dobbiamo arrivare a casa del cittadino e tutto quello che si può fare nel domicilio noi dobbiamo riuscire a farlo chiaramente va costruito nel tempo.